Salve a tutti! Continuiamo lo studio sulla progettazione dei dissipatori per componenti elettronici con la realizzazione del circuito elettrico per effettuare i vari test termici sui nostri dissipatori di prova. Ed è questo qui che ho già riportato sul tavolo, quindi adesso andremo a vedere, a commentare le varie parti di cui si compone ma essenzialmente è un circuito molto molto semplice. In pratica che cos'è che abbiamo? Abbiamo una tensione di 12 volt che alimenta la circuiteria ausiliaria di controllo e una tensione di potenza di 24 volt che andrà ad alimentare il nostro MOSFET, il nostro attivo montato sul dissipatore e darà l'energia sufficiente a poter generare potenze anche abbastanza rilevanti per poter poi effettivamente misurare la dissipazione sul dissipatore. Com'è che funziona questo circuito? In pratica come detto abbiamo il MOS che sarà l'attivo di potenza che dissipa energia e uno shunt di corrente. Che cos'è che succede? Attraverso questo shunt di corrente io vado a misurare la corrente che effettivamente passa lungo questa maglia del circuito che quindi si richiude sul generatore di 24 volt e a seconda della corrente che voglio che passi io vado a modificare i valori di questi trimmer quindi il circuito si equilibrerà e andrà a fare in modo che su questo shunt passi proprio la corrente che io desidero. E com'è che riesce a fare questo? In pratica va a variare la tensione di uscita di questo amplificatore operazionale messo in modalità di integratore e variando la tensione di uscita in pratica andrà a variare la tensione gate source e variando questa tensione la porterà a valori bassi quindi il MOS non sarà acceso ma si ritroverà a lavorare in una regione ohmmica in una regione molto resistiva andrà a regolare in pratica la resistenza intrinseca del MOS in modo da far passare solo la corrente che io ho selezionato. lavorando in questo modo il MOS si comporterà quindi come se fosse una resistenza e per calcolare banalmente la potenza che sta dissipando basterà mettere in serie un amperometro e in parallelo fra il suo drain e source un voltometro. Ho dimensionato il circuito di controllo in modo che la corrente massima che può passare attraverso il MOS è di 3 ampere in quanto per quanto riguarda il package TO220 è segnato nel datasheet che in generale questo tipo di package questo tipo di componente può dissipare al massimo una potenza di 75 watt quindi supponendo che attraverso il MOS stiano passando 3 ampere la potenza che va a dissipare è pari a 24 volt per 3 ampere ovvero 72 watt quindi quello che adesso rimane da fare è soltanto andare a costruire il circuito ecco qui realizzato il circuito di test ho montato qui tutta la parte di controllo mentre la parte di potenza è montata qui come potete vedere su questo blocco di legno dove arrivano solo questi tre fili montati a questa placchetta di plastica questo per il discorso di far sì che la conduzione sia quasi nulla è più nulla di così che c'è legno che è isolante non c'è modo di ridurla almeno di questo quindi diciamo che a livello di conduzione qui non c'è conduzione termica questo è il motivo per cui l'attivo si trova su questo blocchetto di legno ho già effettuato i test su questo circuito e risulta perfettamente funzionante quindi lo vedremo direttamente all'opera poi durante i test termici nei prossimi video molto bene per questo video è tutto alla prossima